Sto correndo per rendere noto i risultati di oltre mille indagini cliniche che abbiamo fatto. Siamo riusciti a individuare dei corpi estrani, che non appartengono al corpo umano, molto piccoli. Gli inceneritori sono fabbriche di veleni. La verità bisogna cercarla. Dove vedi inceneritori vedi anche la corruzione politica. Questa è la sporcizia. Corruzione. Grazie a tutti.